Cos'è? E' una campanella, se vado fuori tono mi suona. Sì, va bene. Ora, io vorrei precisare una cosa. Ho un po' di abbassamento di voce, quindi per forza devo alzarla. Ma non è la rabbia... Ce l'hai con me? No, non ce l'ho con te. Devo alzarla un attimo, sennò mi viene sottile come una cosa pazzesca. Allora, volevo dirvi questo, io sono qua per una cosa. Per sapere, un attimo, chi sono io è in base a quello che pensate voi di me. Perché io non ho capito neanche voi chi siete. Io sono in base a quello che voi vedete in me. Io non lo so. Sono il peggiore? Sì, sono venuto a dirvelo. Sono il peggiore. Queste cose sono state dette per almeno... Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Io ho peggiorato questo paese. Cioè, quando hai fatto politica hai peggiorato il paese? L'ho peggiorato. Non c'è battuta qua. L'ultima intervista che ho fatto con Vespa... La Vespa? Abbiamo perso le elezioni. Cosa vuoi dire? Tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo. È pazzesco. Cosa devo fare? Sono veramente il peggiore. Ora, la mia testa è... Io sono un anziano. Avete visto gli anziani qua come siamo? Un po' rallentati nelle cose. La mia mente va a compartimenti stani. Io sono venuto per capire se io cosa devo fare. Se devo continuare o non continuare. Io ho fatto delle cose per voi, cari amici. Con chi c'è? No, con voi. Con voi a casa e qua. Delle cose pazzesche. Vi ho tolto il 144. Vi ho portato Skype per la prima volta in Italia. Ho parlato della Parma. Sono andato prendendo tre azioni a Leni, al Monte dei Paschi. Ho combattuto tutto il mondo e adesso vado in un bar e mi fate pagare il caffè. Faccio dei danni. Io non posso condurre o portare a buon fine un movimento politico. Non sono in grado. Ma scusa, adesso te ne accordi? Ma no, me ne sono accorto perché c'era Casaleggio, Casaleggio era un organizzatore, era un manager, faceva del metodo. Io faccio dei danni adesso, anche da solo, che non faccio niente in casa. Chiamo, mando mail, mando whatsapp, mando un'idea e poi appena l'ho mandato ho già cambiato idea. Quindi va e crea una confusione totale. Come faccio io a essere? Ecco perché mi sono un po' ritirato a guardarvi un po' cosa succede. Perché è così. La mia rabbia che avete visto, il vaffanculo, era una rabbia buona. Ce l'ho ancora. Io sono buono dentro. E la rabbia buona è necessaria per l'anima, lo diceva Tolstoi. Un'anima. Allora cosa vi devo dire? Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al PD. Volevo dargli tutte le mie cose, giravo e facevo le mie cose. Come ti sei iscritto al PD? Sì. Ma dove? Ad Arzacchina, guarda. Quanti eravate? Dammi un po' d'acqua.